E benvenuti a questa edizione del telegiornale per sordi. Apriamo con i nuovi dati sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 186 su oltre 8.000 test, di cui 7.000 tamponi molecolari. Il tasso dei nuovi positivi è il 2,10%. Lo ha reso noto in tarda mattinata il presidente della regione toscana Gianni nel suo consueto report sui social. Rispetto alla rilevazione precedente aumentano i nuovi casi giornalieri e il tasso di positività a fronte di un numero di tamponi dimezzato. Ieri erano stati 162 i contagi, con un'incidenza pari allo 0,9%. E la chirurgia dell'ospedale Serristori tornerà alla sua piena attività sette giorni su sette per diventare polo chirurgico per i pazienti di tutta l'area fiorentina sud e non solo di Figline-Valdarno, sempre in provincia di Firenze. Intanto, però, dal 7 di giugno e per i mesi estivi, anche di luglio e agosto, la chirurgia del Serristori viene reattivata solo in parte, con sedute su cinque giorni contestualmente alla graduale ripresa delle funzioni dovuta alla diminuzione di casi covid positivi per i quali nei mesi scorsi l'ospedale ha avuto un ruolo di raccordo fondamentale con Firenze. Allevatori di razze canine e medici veterinari, e siamo così alla cronaca, residenti nelle province di Ancona, Macerata e Cosenza, ma anche in altre nuove regioni, compreso la Toscana, sono risultati coinvolti in 52 amputazioni illegali di orecchie, code di cani, corso Pitbull e Dogo Argentino, eseguiti tra il 2017 e il 2019. Alcune imputazioni con certificati veterinari falsi, manoscritti di veterinari e attribuiti a veterinari residenti all'estero o inconsapevoli o addirittura inesistenti. Sono alcuni dei punti particolari di un'inchiesta coordinata dai carabinieri. Siamo sempre in cronaca, un uomo di 70 anni livornese è deceduto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto alla rotatoria della Cigna nella zona nord di Livorno. L'uomo viaggiava in sella ad uno scooter e in base ad una prima ricostruzione non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente. In base ai rilievi della polizia, l'anziano avrebbe perso il controllo dello scooter e sarebbe stato sbalzato dal mezzo battendo violentemente la testa. L'uomo è stato a soccorso subito da un'ambulanza ma è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Tre imprenditori residenti nel Pratese sono finiti ai domiciliari in esecuzione di una misura di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura per tentata truffa ai danni dello Stato per un valore di oltre 15 milioni. Indagati quattro professionisti. Uno è stato interdetto dalla professione per un anno e tre sono stati sottoposti all'obbligo di firma. Il 2 giugno tutti insieme abbiamo ricordato che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Oggi le ACLI di Prato ricordano Luana Dorazio, morta sul lavoro un mese fa a 23 anni, nel pieno della vita e dei sogni. Come Sabri Iaballà, anche lui di 23 anni, morto a Montale in provincia di Pistoia. Nel primo quadrimestre dell'anno i deceduti per incidenti sul lavoro a livello nazionale sono già stati 306, ai quali devono essere aggiunti quelli non accertati e mai denunciati. Così recita una nota delle ACLI provinciali di Prato. Una collaborazione fra Firenze e Istanbul nei campi della cultura, dello sviluppo sostenibile, dell'urbanistica e del turismo è quanto prevede una lettera di intenti firmata dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal suo collega turco Imamoglu. La lettera è stata firmata durante una missione istituzionale di Nardella nella città turca, su invito del sindaco Imamoglu, ieri a Istanbul nel quartiere generale dell'innovazione della città metropolitana turca. Si è bloccato tutto, possiamo ripartire da quello di Istanbul. Massimo, dobbiamo ripartire dalla fine della notizia precedente. Adempimenti amministrativi più veloci per assegnare le risorse del programma di sviluppo rurale finanziato dal PSR FEAS 2014-2020 per erogare in tempi più rapidi le risorse appena saranno disponibili, è quanto prevede una delibera approvata dall'ultima seduta della giunta regionale toscana. L'accelerazione riguardirà in particolare nove bandi. E si svolgerà dal 10 al 16 giugno a Siena la settima edizione di Inbox dal vivo, fase finale di un progetto unico in Italia per la sua natura ibrida di concorso, vetrina e festival di teatro contemporaneo, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus insieme al Ministero della Cultura. Il festival rappresenta la fase finale di selezione e momento centrale del Bando, progetto ideato da Francesco Perrone e Fabrizio Trisciani da Straligut Teatro che da 13 anni riunisce in rete oltre 80 soggetti diffusi su tutto il territorio nazionale, selezionando e promuovendo artisti e opere di valore nella scena teatrale emergente. L'edizione 2021 ha registrato un record di partecipazioni con 564 spettacoli candidati. Il paesaggio collinare e policulturale di Pienza e Montepulciano nel Senese ha ottenuto il riconoscimento di paesaggio rurale storico con l'iscrizione nell'apposito registro che fa capo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il risultato è frutto del lungo e accurato lavoro svolto da alcuni referenti scientifici Stefano Biagiotti, Andrea Iacomoni e Filippo Masina per conto dell'Università Telematica Pegaso e consente di esaltare le qualità del paesaggio in centri storici come Pienza, Montichiello e Montepulciano, caratterizzato dalla presenza di culture storiche quali i vigneti e gli oliveti. Chiudiamo con le previsioni del tempo in Toscana. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con sviluppo modesto di nubi comuniformi pomeridiane sui rilievi interni, velature in transito in serata, venti deboli di brezza, mari poco mossi, temperature in ulteriore lieve aumento. È tutto, grazie di essere stati con noi, alla prossima edizione. Arrivederci.